Riunione nella Sala di Protezione Civile della Prefettura per analizzare iniziative e misure operative per contrastare gli incendi boschivi. Si è svolta ieri alla presenza dei rappresentanti delle Forze dell'Ordine e di tutti i soggetti istituzionali coinvolti a vario titolo nelle attività. La campagna antincendio è stata anticipata al 1 giugno 2022, mentre da quest'anno è stata stipulata una convenzione tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e la Regione Siciliana, che prevede per la provincia di Messina un ampliamento con due squadre di caschi rossi in aggiunta a quelle già previste e la presenza di sei tecnici abilitati a direttore e operazioni di spegnimento, di cui tre per la Sicilia orientale e tre per quella occidentale. Ruolo importante avranno anche le associazioni di volontariato opportunamente formate, che potranno essere impiegate nelle prime fasi di innesco degli incendi che non presentino particolari problematicità di intervento. Prevista la pulizia delle fasce di rispetto stradale da parte di città metropolitana, comuni, ANAS e CAS, la bonifica delle aree adiacenti alla sede ferroviaria a cura di RFI e di quelle interessate al passaggio degli elettrodigestiti da Enel e Terna. Questi enti dovranno scerbare i terreni su cui sorgono i tralicci, mentre l'azienda regionale dovrà eliminare il materiale più facilmente soggetto a combustione e realizzare sentieri tagliafuoco nelle aree forestali demaniali. Ai sindaci è stato richiesto di adottare le consuete ordinanze per vietare l'accensione di fuochi per eliminare residui vegetali durante il periodo di massimo rischio e obbligare i proprietari dei fondi incolti, anche con interventi sostitutivi in danno, alla pulizia dei terreni. Sarà aggiornata la mappatura dei punti di approvvigionamento idrico per rifornire mezzi impiegnati nelle operazioni di spegnimento e verrà inoltre rafforzato il controllo del territorio da parte di tutte le forze di pulizia, specie nelle giornate interessate da alto rischio di roghi. Durante la riunione si è discusso anche del recente rogo divampato a Stromboli, la cui dinamica è al vaglio degli investigatori. Intanto il sindaco di Lipari, Marco Giorgiani, ha annunciato che verrà chiesto lo stato di calamità per gli ingenti danni subiti dalla comunità e saranno intraprese tutte le opportune azioni per identificare i responsabili. Giorgiani ha precisato che l'amministrazione non ha autorizzato dire quell'ordinanza sindacale che da ottobre a giugno vieta l'accensione di fuochi nelle giornate di Scirocco.